Sì, ho avuto un piccolo problema, un ginocchio già operato, è stata una piccola ricaduta e abbiamo lavorato tanto con lo staff degli essensi della fisioterapia per rimetterlo a posto e sono stati due mesi un po' tra alti e bassi perché era un'infiammazione che andava e tornava adesso però sono tornato finalmente abile e arruolabile per la squadra. Durante queste settimane, queste ultime settimane sono più settimane dove alziamo un po' più l'intensità visto che le altre squadre stanno giocando partite. Sappiamo che l'Eister e l'Aster hanno giocato due partite di alto livello perché è stata una finale di Pro 14 e le semifinali e la finale di Pro 14 e l'Eister ha giocato anche la semifinale con i Saracens, quindi loro hanno già minuti sulle gambe noi non ne abbiamo per quanto riguarda il momento, non abbiamo partite ma ci stiamo allenando tra di noi magari facendo anche partite tra di noi in modo da riprendere un po' il ritmo partita. Sì, per le due settimane, per le due partite sono abbastanza dure però secondo me è un buon test per noi per vedere come siamo messi questa stagione. Affrontiamo le due finaliste del Pro 14 quindi presumibilmente le due squadre più forti e con l'Aster lì abbiamo sempre fatto belle partite anche con l'Eister quindi noi andremo lì per giocarcele a viso aperto tutte e due, senza paura. Allora in base per gli obiettivi per quest'anno, per i miei personali obiettivi, punto intanto a confermare quello che ho fatto negli ultimi due anni e cercare di fare meglio sicuramente, ancora devo definire quali sono gli obiettivi ancora della stagione visto che comunque sia ancora non iniziamo, sta per iniziare e sicuramente fare sia bene in Benetton ma anche con la nazionale. Per quanto riguarda la squadra li stiamo ancora definendo ma abbiamo sempre puntato in alto e quest'anno non sarà da meno, punteremo sempre in alto.